carissimi pace buona giornata dio vi benedica leggiamo questa mattina 21 settembre in isaia capitolo 46 verso 4 un verso molto bello dove il profeta ispirato dallo spirito santo riporta le parole del signore il quale afferma fino alla vostra vecchiaia io sono fino alle vostre canizie io vi porterò io vi ho fatti io vi sosserrò si vi porterò e vi salverò ci sono sicuramente diversi spunti di riflessione e ne prenderò in considerazione soltanto alcuni con la certezza che il signore mediante il suo spirito se il nostro cuore sarà ben disposto continuerà a parlare ai cuori voglio innanzitutto soffermarmi sull'immutabilità di dio che è un po il il centro di questo discorso che viene fatto da parte del signore immutabilità che ci permette di essere fiduciosi qualunque situazione si venga a trovare perché se è vero che gli uomini possono cambiare idea possono cambiare forza e opinione possono veder venire meno le proprie forze le proprie abilità è anche tanto vero che il signore non cambi idea non cambi opinione non perde le sue energie e nel tempo rimane sempre lo stesso e questo deve essere qualcosa ripeto che ci incoraggia perché il fondamento della nostra fede va da dire dio un fondamento certo stabile sicuro d'altronde questo è un principio che viene presentato in diversi altri versi della parola di dio ad esempio il salmo 102 verso 27 dice qui il salmista si rivolge al signore ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine delle volte possiamo appoggiarci su delle persone che sono di grande aiuto poi però purtroppo la morte viene quindi queste persone ci lasciano può capitare con amici con genitori e con persone da noi stimate ma gloria a dio il signore non viene mai meno egli continua ad essere lo stesso ed egli soprattutto è qualcuno che è eterno non c'è un numero di anni perché egli non ha né inizio e né fine in malachia 3 6 il signore dice io non cambio perciò voi o figli di giacobbe non siete ancora consumati cioè la sua misericordia le sue compassioni il suo perdono si rinnovano anche quando noi cadiamo falliamo e quindi veniamo un po meno alla promessa che abbiamo fatto di essere di fedele lui non cambia se noi siamo infedeli lui rimane fedele che non significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo ma significa che quando pecchiamo se torniamo al signore con cuore sincero pentito ci ravvediamo egli ancora una volta dimostra la sua fedeltà nel perdonarci nel lavarci nel purificarci col sangue del suo figlio gesù cristo d'altronde ebrei 13 8 afferma che gesù cristo è lo stesso ieri oggi è in eterno il nostro signore non viene mai meno a nessuna delle promesse che ha fatto e come ha compiuto opere straordinarie nel passato egli le continua a compiere ancora oggi dio è immutabile infatti giacomo dice che ogni cosa buona ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è né ombra né non c'è scusate né variazione né ombra di mutamento dio quindi è immutabile dio è lo stesso dio è colui che ci promette che ci accompagnerà fino alla nostra vecchiaia fino all'ultimo respiro della nostra vita egli è colui che ci ha fatti sia nel senso che ha formato l'uomo o dalla polvere della terra sia nel senso che ci ha resi delle nuove creature per mezzo di gesù cristo e quindi ha messo in noi una nuova vita e proprio per questo egli è quello che ci porterà e che ci salverà e allora fratelli sorelli in questo giorno e per tutti i giorni della nostra vita fino a quando il signore non tornerà o non ci chiamerà a sé riposiamo sulla immutabilità di dio e sulla certezza che il signore non cambia mai e che in ogni cosa egli è sempre pronta ad aiutare quelli che sperano e gridano in lui abbiamo anche la certezza e concludo che come dice il salmo 92 al verso 14 se saremo fedeli al signore porteremo ancora frutto nella vecchiaia saremo pieni di vigori e di vigore scusate verdeggianti d'altronde in isai è anche scritto che i giovani scelti si affaticano si stancono vengono meno quelli più vigorosi possono cadere ma coloro che sperano nel signore acquistano nuove forze si alzano in volo come acuile proseguono il cammino perché sanno che il loro signore salvatore è dalla loro parte sia benedetto il signore perché egli è così e noi lo amiamo non solo per quello che egli fa ma innanzitutto e principalmente per quello che egli è amore salvatore misericordia bontà compassione ma anche immutabilità ecco io sono con voi fino alla fine tutti i giorni della vostra vita sì ancora oggi il signore sarà con noi e noi vogliamo essere al suo fianco vivendo una vita che l'onora e cercando di compiacere la sua volontà in ogni cosa la pace l'amore e la presenza di dio sia con noi ancora oggi dio ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti